buona giornata amici da massimo foghetti oggi è venerdì 4 marzo e 2022 una giornata in cui i giornali parlano ancora molto di guerra purtroppo abbiamo notizie e fotografie veramente esplicative per quanto accade in Ucraina noi ovviamente ci limiteremo a parlare delle notizie locali con tutti i riverberi che poi la guerra in Ucraina fa nel nostro territorio vediamo che già sono arrivati i profughi ovviamente di questo parleremo poi in rassegna stampa intanto vediamo che il sole oggi è sorto alle 6 e 39 e tramonterà alle 18 01 vediamo chi è il santo del giorno il santo del giorno è un santo dell'est europeo si tratta di san casimiro un principe polacco era figlio di casimiro terzo re di polonia visse però una vita santa dedita alla preghiera e alla mortificazione respinse il lusso e praticò la penitenza si spense a vilnius in lituania avendo conosciuto per rivelazione il giorno della sua morte vediamo ora le notizie del tempo salutiamo san casimiro e vediamo come il tempo è cambiato rispetto al moderato o buon tempo della giornata di ieri ora il tempo si fa instabile con piogge temporali e nevicate sui 4 500 metri insomma 400 500 metri e saranno fino al pomeriggio poi ci sarà un lento miglioramento del tempo a partire da nord i venti ispireranno sulle coste da est nord est sull'interno invece da sud ovest apriamo i giornali questa mattina a partire dal corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo che si parla di un provvedimento assunto ieri dall'assessore alla mobilità fabbio lattonelli la quale per compensare la soppressione dei parcheggi in via negussanti al lato della caserma a fano ha così trasformato 20 posti auto all'interno del piazzale della caserma sul lato di via negussanti a disco orario per 90 minuti ex caserma 20 stalli a tempo sempre meno posteggi liberi però per coloro che devono recarsi in centro storico ovviamente anche qui cambia la situazione perché chi lavora nel centro storico ha bisogno di una sosta ben superiore ai 90 minuti è una coperta che più la tiri da una parte e più si scopre dall'altra caso copp contatto le spiegazioni di aset dopo il mancato rinnovo della collaborazione non ci sono sub appalti e qui l'aset spiega il perché ha troncato il rapporto con la cooperativa a contatto dove lavorano alcuni disabili lo strappo a una collaborazione ventennale ha fatto discutere a lungo in questi giorni a fano e adesso i vertici della società per i servizi hanno deciso di intervenire per fare chiarezza la premessa è quella che aset essendo una società controllo pubblico deve rispettare le norme in materia di appalti pubblici e per quanto riguarda le disposizioni dell'anac per le cooperative sociali di tipo b come nel caso di contatto sono previsti soltanto appalti che si riferiscono a servizi strumentali e non a rilevanza economica ecco perché la normativa impone appunto come ha detto l'aset che questo contratto non possa più rinnovarsi la palestra della gentile deve mollegare per tre sport è una richiesta che fa l'udc alla giunta fanese i tre sport sono quelli dei campionati federali di basket di volley e calcio a cinque insomma si costruisce una nuova palestra e bisogna tenere conto anche delle esigenze non solo della scuola l'alimentare gentile del porto ma anche delle quartiere che fa ad essa riferimento una notizia di crona che ieri c'è stata un furto rumoroso dobbiamo dire ai danni della banca di credito cooperativo di fano nella sua filiale di cucurano bancomat fatto esplodere il colpo frutta 14 mila euro un boato nella notte nella frazione ladri in fuga verso la collina un testimone ha visto l'auto dirigersi a gran velocità verso via verso la strada della pattuccia danni per 30 mila euro sono stati più i danni che sono stati compiuti dalla esplosione dalla deflagrazione del bancomat che la somma prelevata in contanti un boato nella notte intorno all'una e mezza di ieri ha terrorizzato gli abitanti di cucurano un gruppo di malviventi ha fatto esplodere lo sportello del bancomat riuscendo a mettere le mani su contante per un valore complessivo di circa 14 mila euro un'esplosione potente violente violenta che è stata avvertita a distanza e ha provocato come abbiamo detto ingenti danni alla struttura e poi vediamo che ieri il presidente della fondazione carifano ha presentato il nuovo bando del crowdfunding fra uccandi è una modalità per concedere contributi diversa da quella che in passato ha fatto la fondazione carifano oggi non basta più andare in fondazione presentare un progetto e chiedere dei contributi no occorre partecipare a un bando presentare i propri progetti raccogliere la cifra necessaria e poi vedere che la fondazione una volta che ha accettato il progetto raddoppia questa cifra è un modo dunque per attivare una rete di collaborazione e per stimolare appunto il volontariato il terzo settore a operare attivamente e non passivamente per ricevere contributi e passiamo ora a fossombrone dove si parla di un'iniziativa bella attuata dall'istituto di istruzione superiore luigi donati di fossombrone il quale i propri insegnanti hanno organizzato un'impresa simulata a scuola un'occasione formativa unica che darà ancora più possibilità poi agli studenti una volta che avranno avuto la maturità di inserirsi nel mondo del lavoro gli alunni del donati creano due società commerciali collaborando con le aziende e le aziende che hanno offerto la loro collaborazione sono la Berloni Bagno SRL e la Lab SRL entrambe appunto della cittadina metaurense a Pergola si scende in campo per l'Ucraina è una delle iniziative delle tante iniziative che grazie al cielo si stanno realizzando nel nostro territorio in aiuto a quella popolazione martoriata donare cibo medicine e vestiti appello della giunta ai cittadini le adesioni all'iniziativa dello slow food una mano per l'Ucraina e l'iniziativa di solidarietà lanciata dal direttivo di slow food urbino per sostenere il popolo ucraino a cui ha subito aderito anche l'amministrazione di Pergola slow food urbino in breve tempo è riuscita a farsi aprire dalle autorità ucraine e romene un green bridge ovvero un ponte verde che permetterà di consegnare gli aiuti direttamente al comune della cittadina di Cernivzi in Ucraina dove al momento si stanno dirigendo milioni di profughi insomma la situazione poi è in continua evoluzione e bisognerà adattarsi secondo il succedersi degli eventi durante tutta la giornata di sabato nei tre supermercati della città ovvero il Conad, Coal ed Eurospin chi vorrà potrà donare parte della propria spesa per chi vorrà invece donare vestiario come scarpe, coperte ma anche giocattoli, tende da campeggio, sacchi a pelo eccetera potrà portarli sempre sabato dalle 15 alle 19 sotto i portici del comune di Pergola a Senigallia nuovi asfalti, le strade in sala trucco, lifting eppure sotto casa di Giacomelli il grande fotografo Giacomelli il cantiere si sta aprendo via Leoncavallo dove si trova l'abitazione del fotografo presto il doppio senso sul lungomare dunque anche Senigallia si fa il lifting per prepararsi alla bella stagione, bella stagione che non è lontana tra 20 giorni infatti e anzi meno di 20 giorni è primavera Pesaro ieri ha così passato una bella giornata parlando delle proprie aspirazioni per diventare capitale nazionale della cultura e ha mostrato tutte le sue bellezze, tutte le sue opportunità per Pesaro capitale una città orchestra insieme al territorio, una città orchestra è un modo per evidenziare la coesione diciamo così anche un'atmosfera molto molto suggestiva di tutte le opportunità di tutte le bellezze che ha il territorio, il gota dell'imprenditoria della cultura schierato sul palco del auditorium Pedrotti. Prima dell'audizione la solidarietà a Kirchiv il centro ucraino della musica ecco perché questa specie di rapporto di gemellaggio tra la città della musica di Pesaro e la città della musica di Kharkiv ha dato un maggiore valore alla candidatura pesarese insomma di solidarietà per quanto riguarda quello che sta accadendo in Ucraina. Il vice sindaco Vimini ha sottolineato come la credibilità dei 6 milioni di euro previsti per la natura della cultura siano un budget soprio ma appropriato a svolgere un programma che si terrà in tutta la provincia durante 50 settimane. Esso prevede l'inizio a Fano e poi un percorso quindi un convolgimento di tutte le località della provincia fino a concludersi ad Urbino. Insomma un itinerario che include Pesaro, Fano, Urbino e altri centri, anche Vallefoglie insomma del territorio. La cultura non si compra, il budget si scopre low cost e per Gianni Letta la base è un modello già sperimentato e vincente. Vediamo qui Gianni Letta durante l'audizione appunto della commissione che deve giudicare appunto i progetti e qui abbiamo anche l'assessore e il vice sindaco Daniele Vimini che dirige questa ipotetica orchestra. Porta Capuccina si cambia, l'area parcheggio resta aperta, doveva essere chiusa ma i proprietari hanno deciso di tenerla aperta almeno a fine settimana. Oggi siamo venerdì insomma ancora per pochi giorni, infatti ma solo per pochi giorni. La società poi recinterà la zona ma non vuole creare attualmente disagi ai proprietari dei mezzi e soprattutto ai pendolari. Affitto non pagato per mesi, comune in causa con un negozio. Si tratta della ditta Cris SRL che non ha pagato l'affitto in un negozio di Palazzo Gradari. Vediamo qui una fotografia di questo bellissimo palazzo di proprietà del comune ed ora il comune l'ha citata in giudizio. Sembra che il regresso sia di 63.998,56 euro, una cifra abbastanza considerevole. Arrivate ragazze, mamme e bambini dall'Ucraina, strutture hotel per l'accoglienza. Sono i profughi in fuga, sono già arrivati una decina a Pesaro, quella sono pochissimi ma se ne arriveranno tanti altri. L'assessore Pandolfi sta gestendo per il comune la prima fase della ospitalità. L'ha presa in carico attraverso una rete di coordinamento che al momento viene gestita dalla città della gioia Onlus e da strutture alberghiere come l'hotel Elvezia, dunque la prima accoglienza. In un solo giorno, 107 telefonate, l'ex si trasforma in un incubo. Si parla di stalking. L'uomo è indagato anche per atti sessuali verso la figlia della donna e una sua amichetta. Un'altra delle vicende squallide che accadono nell'ambito della sfera sessuale. Si tratta di un uomo di 44 anni che ora ha gli arresti domiciliari ed è accusato di quotidiane persecuzioni nei confronti della sua ex. Comportamenti tali da provocare uno stato d'ansia nei confronti della donna ma anche della sua figlia nata da un precedente matrimonio che avrebbe avuto delle attenzioni particolari appunto dall'uomo. Arrestato più volte evita il carcere ma un coltellino finisce per tradirlo. Si tratta di un immigrato di colore di 27 anni che si trova tuttora in carcere ed è finito sotto processo per il possesso appunto di questa piccola arma bianca. Un coltellino che gli è costato il carcere un nigeriano di 27 anni. A Vallefoglia il sindaco ha incontrato il presidente della regione Acquaroli e l'assessore Baldelli. tema in modo particolare la sanità ma anche altri argomenti come quello della coesione sociale, del lavoro, della formazione, della mobilità, viabilità e delle infrastrutture. Temi che sono particolarmente interessanti per i cittadini e che giornalmente vengono posti all'attenzione dell'amministrazione comunale. Una richiesta di attenzione da parte della regione. E in questa fotografia vedete un evento particolare. Si tratta di Emiliano Pagnoni, un fanese appassionato pesca sportivo che ha pescato un'ostorione di circa 30 chili addirittura in un lago nella zona dell'Urbinate. uno dei più grossi pesci che abbia mai preso, ha detto Emiliano, 34enne pescatore appunto amatoriale. Che cosa ha fatto? L'ha preso, si è fatto una bella foto e poi il pescione è stato rimesso nel lago e quindi è riuscito a scamparla, non è appunto deceduto. Ed ora passiamo alla pagina del resto del Carlino. Vediamo qui la prima pagina. La grande fotonotizia è dedicata agli immigrati giunti dall'Ucraina. Fiaccolata Villa Fastigi, un'Ucraina prego per la famiglia, ha dichiarato. Ma l'apertura della prima pagina è dedicata invece, sì, si parla sempre dell'Ucraina, ma si parla in questo caso in un contesto particolare perché si evidenzia la villetta. Sembra una casetta di campagna immersa nel verde del colle di San Bartolo. In realtà è una villa lussuosa. San Bartolo, viaggio nella villa della Zarina. Si tratta di Valentina Matvienko, terza carica della Russia. Finita nel mirino degli oppositori di Putin. Sul cancello di ingresso che annuncia i lavori di quei commettenti, il figlio Sergei. Ma la guerra ha fermato tutto, ha detto. E qui abbiamo un resoconto di questa villa lussuosa sulle pendici del San Bartolo. La pagò 7 milioni, ma non è una reggia all'aspetto di una casetta di campagna, insomma casona di campagna, però c'è tutti i comfort con una piscina veramente olimpionica, per dire ovviamente. Noi in fuga dall'Ucraina con i gemellini. Benzina finita, abbiamo camminato 22 ore. E questo vediamo la Via Crucis, un racconto di viaggio allucinante iniziato a Kiev e finito a Pesaro. Protagonisti due nonni, una mamma, un papà e tre bambini. Eravamo saliti in auto ma il carburante è durato poco, siamo stati costretti a proseguire a piedi con i figli in braccio. Pensate che viaggio allucinante in un territorio martoriato come quello del Paese in guerra. I miei familiari in Ucraina temo per loro la testimonianza di Alexandra Pilpiv da anni, residente in città, alla fiaccolata di Villa Fastigi, di cui abbiamo visto alla fotonotizia prima. Hanno partecipato a questa iniziativa oltre 200 persone. Al Mammiani la colletta di un euro a studente. Intanto la scuola media Pirandello è tornata alla festa del Carnevale dopo due anni di assoluto blackout. Due notizie contrastanti che evidenziano comunque l'attività che si svolge all'interno delle scuole. Si festeggia il Carnevale ma non si dimentica ciò che accade appunto in Ucraina. Pesaro capitale della cultura, parole e musica. Vogliamo suonare una melodia di rinascita. E in realtà, come abbiamo detto prima, è la musica che fa da late motive per quanto riguarda la candidatura di questo concorso prestigioso a cui Pesaro, ma tutto il territorio, non solo Pesaro, aspira per conseguire un risultato promozionale di particolare rilevanza. Pensate che cosa è accaduto a Matera negli anni scorsi e poi anche nell'isola dell'arcipelago napoletano l'anno scorso. Pesaro regala il basket ai ragazzi del Ghana, Lucia Gigliotti e Alfredo Caranna hanno raccolto fondi in città e costruito un campo dove c'era il fango. Erano in delirio. Felicissimi questi ragazzi. Parliamo poi ancora di cronaca. La moglie lo picchia, il giudice la assolve. La procura aveva chiesto per la donna una condanna a due anni e due mesi. La difesa. Erano normali liti nell'ambito di un rapporto conflittuale. Insomma, quando si passa un po' poi alle botte qualcosa un po' trascende. Però il giudice ha giudicato diversamente. Crescono i poveri in città, ma il banco alimentare c'è. Nel 2021 sono state distribuite 1.500 tonnellate di cibo attraverso gli enti caritatevoli. I bisognosi sono aumentati del 30% rispetto al 2019, colpa di pandemia e guerra. E qui vediamo il gruppo del Banco Alimentare di Pesaro, il gruppo dei volontari che si presta alla raccolta dei cibi alle porte degli ipermercati, dei supermercati. Un Audi col numero 46 in pista e Valentino e Imola si accende. Tantam sui social e Capanelli di Curiosi all'autodomo emiliano, quello appunto di Imola. Ma resta il dubbio su chi fosse alla guida. Ha girato fino a tardo pomeriggio, ovviamente si crede che sia Valentino, e quella è la vettura con cui debuterà tra meno di un mese. Ufficialmente nessuno ha confermato che ci fosse veramente Valentino Rossi al volante, però insomma è stato bello crederci e quindi la gente si è assiepata ai bordi della pista. Per quanto riguarda Fano vediamo che si parla dell'accoglienza dei profughi. Sono mamme con bambini, sono già giunti in città, arrivati cibo e indumenti raccolti in una stanza dell'Opera Don Orione. Si moltiplicano le iniziative per chi è rimasto sotto le bombe. Primi arrivi a Fano, dei profughi ucraini, sono tutte mamme con bambini. Intanto si moltiplicano appunto le iniziative, perché è rimasto sotto le bombe, e tra queste c'è la raccolta di materiale. Servono soprattutto cibo, medicinali. L'iniziativa è promossa dalla Caritas Ucraina in Italia. Per ora sono arrivati cibo e indumenti raccolti in una stanza appunto dell'Opera Don Orione, messa a disposizione dal direttore Don Antonio Ascenzo. Mancano i parcheggi per i negozi, alla Paolini, Stagli e Sosta di 90 minuti. Ed è l'iniziativa dell'assessore Tonelli, che cerca appunto di ricompensare i commercianti di Via Nego Santi dalla sottrazione dei parcheggi lato Caserma. E qui vediamo un servizio fotografico che dimostra come c'è molto da fare per curare la viabilità fanese. Più crateri che asfalto, una situazione scandalosa. Il Carlino fa un viaggio in città dalla Gimarra all'uscita di Fano Sud della superstrada, fino al centro. Tutto è un coro di proteste. Perché non si dà la priorità ai lavori di sistemazione degli asfalti? Di solito questi si fanno quando il tempo è clemente, quando la temperatura è mite. Non si fanno d'inverno. Ma però, insomma, la situazione sta diventando veramente insostenibile. Qui vediamo alcune fotografie dell'asfalto. Qui di Viale Gramsci. Qui all'angolo tra Viale Gramsci e lo Sport... No, questo è ancora Viale Gramsci e poi c'è le buche dello Sport Park. Veramente delle situazioni insostenibili. Poi abbiamo anche Via Poggi a Gimarra. Via Poggi necessita di un intervento di asfaltatura perché saranno almeno 30 anni che non viene fatto. E poi abbiamo il manto stradale all'uscita di Fano Sud della superstrada che è da Seconda Guerra Mondiale, dice un testimone. Scendendo verso la Saipem c'è un cratere che sarà profondo almeno mezzo metro, addirittura 50 centimetri. Ma poi necessitano di interventi anche i parcheggi come quello dello Sport Park e quello dell'ospedale. Specialmente quello vicino al pronto soccorso. Fanno saltare il Bancomat e fuggano qui il furto che è stato compiuto nella notte da quattro malviventi ai danni del Bancomat della BCC di Cucurano. E qui l'iniziativa invece della Fondazione che ha rinnovato il bando di crowdfunding. Raddoppio di risorse infatti ai 50 mila euro messi a disposizione l'anno scorso. Quest'anno la Fondazione ha raddoppiato l'importo e mette a disposizione 100 mila euro. Guardia Medica soppressa anche nei weekend a Mondolfo. Il cartello sulla porta d'ingresso sorprende i cittadini. Come a Fano si era almeno deciso di tenere il servizio disponibile per la fine della settimana, sabato e domenica. In realtà a Mondolfo questo non avviene per carenza di personale. Il servizio non potrà essere assicurato e l'avviso ha sollevato il disappunto dei cittadini di cui si è fatto portavoce il capogruppo di minoranza consigliare Anteo Bonacossi. A Urbino i malati di Covid non si possono abbandonare. E la denuncia di Cristina Marotti che tra mille peripezie è riuscita ad assistere il fratello Carlo Alberto, un certo dipendente universitario colpito due volte dal Covid, il quale però non ha ricevuto la dovuta assistenza. Per esempio non ha ricevuto i sacchi per l'immondizia che spettano ai malati di Covid, che se l'immondizia accumulata nel terrazzo ha dovuto appunto differenziarla da solo e gestirla al meglio. E poi non abbiamo avuto, dice, cambi di letto, pulizie, disinfestazione. In più, Carlo Alberto, il malato, deve seguire una terapia personale e c'era bisogno anche per quello. Insomma, una situazione di semiabbandono che ha fatto sorgere le proteste. E vediamo ora una notizia di sport prima di chiudere. Vediamo che la Visse si appresta a sostenere la prossima gara con il Gubbio, una specie di derby. Tra Gubbio e Visse una sfida appassionante. Alessandro Sandreani, ex bandiera rosso-blu e tecnico Primavera, dice, piazze e squadre che si assomigliano una gara che si decide nell'approccio. Da bambina ero tifoso della Visse di Nappi e di mio babbo da calciatore una vita in Umbria. E qui vediamo Alessandro Sandreani, allenatore della Visse di Primavera. La vittoria dell'Alma ha riacceso gli entusiasmi a Fano. Tortori, sì, questo Fano ha gli attributi, ha dichiarato. L'esterno è stato decisivo contro il Castelnuovo-Vomano. Benissimo nella ripresa. E ora ricarichiamoci per la Samb, un'altra partita veramente da vincere per risalire la classifica. Ebbene, era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani alle ore 7. Intanto vi auguro buona giornata.